Ciao ragazzi, bentornati a Puggini On Air ad un altro approfondimento sulla musica che ci piace di cui parliamo molto molto spesso, ormai sempre di più qui sul mio canale YouTube al quale vi invito ad iscrivervi e vi ringrazio perché lo state facendo sempre più numerosi do il benvenuto a tutti coloro che si sono iscritti e anche ai nuovi arrivati ci conosciamo con molti di voi sicuramente con questo nuovo approfondimento e sappiate che potete seguirci sempre se volete a Puggini On Air parliamo quindi di Miley Cyrus, per chi mi conosce lo sa che ho pronunciato in modo eccellente questo nome in inglese invece sono in realtà molto ignorante soprattutto dal punto di vista della pronuncia abbiamo ultimamente in redazione degli splendidi insegnanti anche di inglese che ci aiutano a pronunciare bene i nomi per cui possiamo anche parlare di personaggi del mondo dello spettacolo e di musica che non è proprio italiana italiana senza vergognarci della nostra pronuncia per cui lo ridico subito Miley Cyrus ha annunciato il nuovo singolo Flowers in uscita il 13 gennaio vedete come sto migliorando ragazzi bellissimo davvero ha annunciato questo nuovo singolo e siamo in attesa della sua uscita della sua uscita vediamo cosa dicono di lei naturalmente come sempre c'è un'era discografica nuova così dicono di Miley Cyrus la cantante ha annunciato l'arrivo di questo nuovo brano con un video sul suo profilo Instagram che conta 190 milioni di follower per cui pensate quante persone la seguono soltanto su Instagram Miley Cyrus quanto mi piace dirlo bene è tra le pop star ormai più seguite quindi influenti della scena discografica internazionale tutti lo sappiamo nel corso degli anni la cantante si è imposta come protagonista assoluta grazie a video singoli e album curati nei minimi dettagli è sempre in grado di far centro diciamo un po' nel cuore almeno del suo pubblico che come abbiamo visto è molto vasto considerando anche soltanto i numeri di Instagram il 19 dicembre ha annunciato l'arrivo di un progetto inedito tramite un filmato un po' criptico ritraente un grande cartellone pubblicitario possiamo vedere subito anche già dall'anteprima di questo breve video New Year New Miley questo ciò che è anche scritto nei commenti così per dare un po' di suspense dovendo dare l'annuncio poi del singolo infatti l'ha poi svelato ha svelato l'arrivo del brano Flowers in uscita il 13 gennaio regalando anche due brevissime anteprime sempre sul suo profilo Instagram infatti in un'altra si legge New Year New Miley New Single Flowers January 13 ecco quindi il 13 gennaio questo molto sintetico con un video entrambi i video abbiamo detto sono due hanno ottenuto numerosi commenti più di un milione di like naturalmente questo è sempre simbolo dell'enorme curiosità e apprezzamento dei fans ora non resta quindi che attendere ancora pochissimi giorni per poter finalmente ascoltare il brano chissà se darà altre anticipazioni sempre su Instagram tra gli album che sono quelli più amati della cantante possiamo ricordare Bungers e Plastic Hears quest'ultimo trainato dalla hit My Night scusate My Night Sky My Night Sky per quanto riguarda i singoli spiccano invece We Can Stop per esempio Malibu Slide Hawaii Prisoner con Dua Lipa ho detto solo quelli più facili da pronunciare naturalmente scherzo allora ragazzi grazie per aver seguito questo approfondimento non ci sono ancora non trovo notizie interessanti oltre quelle che che già abbiamo detto naturalmente l'ultimo disco è Plastic Hears del 2020 seguito anche dalla raccolta live Attention Smiley Live 2022 2023 è già l'anno delle novità musicali più attese tra le quali non può mancare il prossimo disco dei Maneskin dal titolo Rush che sarà fuori il 20 gennaio quindi abbiamo molte già stanotte uscirà stiamo trasmettendo sono le 23 circa praticamente uscirà fra un'ora il nuovo singolo in tutte le piattaforme di Rovarsi che così a memoria ora mi sembra si intitoli e niente è per sempre ne abbiamo parlato nel nostro canale c'è anche un testo immaginato fresco fresco che potrebbe anche divertirvi e nello stesso tempo stuzzicare la vostra fantasia voglia di creatività per cui vi invito a continuare a seguirci a commentare a questo video e ci ascoltiamo nel prossimo approfondimento nella prossima puntata di Puggini On Air